È stata una lunga giornata. Tornato a casa accendo il computer vorrei fare una partita a Starcraft ma leggo una notifica assurda. Mi sono stati regalati 150 pacchetti. Ma come? È impossibile! Allora apro Hearthstone e ci sono davvero. Pacchetto di bentornato. Grazie Blizzard! Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.